Grazie. Buonasera a tutti. Gianni Bacco. Allora, io faccio un intervento lievemente articolato riguardo innanzitutto l'attività. Si è detto spesso in questi giorni siamo una professione, eccetera. In realtà siamo un'attività imprenditoriale con uomini che si muovono da professionisti per il senso di responsabilità. Per questo motivo siamo autorevoli, nel senso che manteniamo le promesse che facciamo perché le facciamo con impegno e con serietà. Allora, praticamente a me è successo circa una quindicina di giorni fa, forse 20, che ho assistito ad una relazione del Consiglio Notarile di Padova dove c'era un libretto, una guida che parlava del contratto preliminare dove i notai hanno convocato, penso che sia di tutta Italia il fascicolo, quindi forse l'avete visto anche in altre province, dove avevano invitato a relazionare sul libretto le associazioni dei consumatori. Non c'erano gli agenti immobiliari e in quell'occasione purtroppo è andata anche peggio del fatto del mancato invito al tavolo di lavoro perché un notaio ha invitato una coppia a parlare delle proprie disgrazie avvenute a causa di un agente immobiliare. Il convegno era indirizzato alla cittadinanza, c'erano 70 persone in un luogo pubblico di Padova, tipicamente preso per questo tipo di riunioni, quindi ha avuto una certa eco. Allora io dico, noi stiamo parlando di fare squadra, di fare sinergia e un elemento della filiera. Io non dico che ce l'avesse su con gli agenti immobiliari, ma sicuramente portare un caso di specie quando si va a parlare del preliminare, preliminare il trascrittore, eccetera, e pensare che una categoria come la nostra, sinergica alla loro per molti aspetti, non possa risentirsi, forse è veramente essere ingenui. Allora io dico, quando noi parliamo di abusivi, se per abusivi intendiamo quei signori che hanno un'agenzia senza avere il patentino, voi sapete che sono molto, molto, molto meno di tutti quelli che, professionisti a tutti i livelli, si pongono sul nostro piatto a mangiare il nostro cibo. Nella giungla, chi si comporta in questo modo viene sbranato, dilaniato. Noi tipicamente non agiamo, ci incazziamo con chi è facile fotografare, far vedere che è abusivo, ma è giusto fare tutto questo. Allora io dico, attenzione perché giustamente la coperta è piccola, però il notaio che ha denunciato quel caso, quella coppia che aveva venduto, preso un acconto, girato l'acconto dopo che il costruttore era già fallito, è fatica a dire, ma noi siamo bravi, siamo ingenui, non facciamo cazzate. Allora, prima di tutto io ho parlato prima di autorevolezza, senso di responsabilità, dimostrata responsabilità. Perché? E non è il caso di Paolo Righi. Ah, volevo dire, volevo dire, l'oro buono, dicono da noi in Veneto, non prende macchia. Quindi non preoccupatevi di nessuna parola, perché per i prossimi due anni lui ha dato la parola a noi tutti che la grinta che ci mette è la stessa. Quindi sinceramente tutto ciò che Paolo può, lo farà, al di là di tutte le critiche, che magari è anche giusto muovergli. Perché uno che si deve preoccupare di tante cose può fare delle fesserie, può passare a volte sui piedi di qualcuno. È normale, è fisiologico, sta facendo. Sapete che chi fa sbaglia, no? Quindi è umano che questo accada. Non vorrei, tornando al discorso dei notai di prima, che ci fossero delle dietrologie, come nei notai, e ho citato notai perché l'intervento lì è stato duro, ed essere tra il pubblico come cittadino e sentire parlare della propria categoria, per uno come me che ho sentito 25, 35, quindi il banco vince. Allora voglio dire, no? Sentire certi discorsi qui e vedere poi certi atteggiamenti verso uomini fiaip, fiaip, verso l'uomo righi fiaip, fa male, perché io questi meccanismi li straconosco tutti, signori? Li ho visti, li ho rivisti, ci ho vissuto in mezzo e so come va. Allora, io penso che sarebbe bello non avere, aver fatto un'assemblea di metà mandato, non iniziato la corsa per il congresso prossimo. Questa è la cosa principale. Torno al discorso comunque della dignità, ma sempre di dignità si tratta, non è un'altra cosa. Il discorso di avere qualcuno che ci vuole male, quando si tratta di inzuppare sul piatto dell'altro, ce ne sono tanti che ci vogliono male. Noi dobbiamo diventare trasversali, comprendere dentro le nostre agenzie altre professioni insieme alla nostra che qualifichino l'attività dell'agente immobiliare. L'agente immobiliare non può andare ad assumersi una serie di responsabilità e certificare e tentare di dire che l'immobile non è abusivo, tentare questo, tentare quello. L'agente immobiliare deve fermarsi un attimino prima e servirsi dell'ausilio, della collaborazione di altri professionisti, trasversalmente creando sinergia. Io ho avuto modo di farla, questo tipo di tentativo. Addirittura si parlava ieri o oggi, non mi ricordo, del discorso del turistico, il fatto di affittare case turistiche. Allora, l'extralberghiero, e per extralberghiero si intendono tutti gli appartamenti che possono essere dati in locazione turistica, il B&B, tutto quello che può essere al di là degli alberghi, può essere dato in affitto da noi agenti immobiliari, possiamo andare dai nostri proprietari che non riescono ad affittare perché hanno la casa fatiscente, può essere dato in affitto in locazione a gente del settore dell'alberghiero, loro lo preparano, lo preparano nel senso di ristrutturazione interna e anche di arredamento e lo mettono a reddito o per il proprietario o per loro stessi, li insegnano come fare. Noi a Padova stiamo portando avanti questo tipo di sinergia, quindi nel gruppo di lavoro che io sto creando c'è dentro un albergatore, un albergatore giovane, veloce, che sta al passo con i tempi. Questo signore promette di poter prendere in affitto, se l'ambito è quello che gli tocca come zona, oppure di insegnare ai proprietari come si può fare per affittare i propri appartamenti. Gli appartamenti li troviamo noi, che sia un 4 più 4 su un uso residenziale o che sia magari qualcosa di un paio d'anni, d'altronde li preparano l'appartamento, l'appartamento tra un paio d'anni glielo possono restituire, viene reso bello, altro che un staging molto di più e viene reso visibile e vendibile, soprattutto a turisti esteri. Allora io dico è giusto che noi parliamo non solo dei nostri problemi contro le banche, perché i nostri problemi nei confronti di alcune banche li hanno tutte le categorie, anche i professionisti, perché voi pensate ad una banca che prende due notai e si fa tutte le surroghe in casa, li prende a stipendio. Per i notai e gli altri cosa succede? È la stessa identica cosa. Se invece noi facciamo capire che i notai o gli agenti immobiliari o tutti sinergicamente, trasversalmente nell'attività della filiera immobiliare si possono mettere uno vicino all'altro e creare dei gruppi di lavoro, solo in questo modo, a mio avviso, è possibile superare la crisi. Poi se invece cadiamo in agenti immobiliari mediocri, incapaci o che comunque, come ho detto altre volte per prendere un esempio, vedono il cliente vestito da 5.000 euro, allora hanno ragioni notai, allora noi terreno non ne recupereremo più. Quindi l'esortazione è, soprattutto per quelli che sono ditti individuali e lavorano da soli, cercare di creare, di fare gruppo, di fare impresa e in quel senso trovare la collaborazione, ma non da soli. Da soli, isolati, non si fa da nessuna parte. Grazie e buon lavoro.